Ok ci siamo, ci siamo Ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti Quindi allora io direi di farmi la classe Facciamoci la classe, che in verità l'ho già fatta Come vi vi accennavo, non so perché l'ho pensato Ma pensavo che bastasse arrivare al 30 E poi potevo mettere la Dark Eater Che ho sbloccato con tanta fatica Però in effetti devo prima ottenere la oro Quindi fare tutte queste mimetiche E niente, quindi ce la teniamo un attimo così Tutta nuova, accessori Ci mettiamo una bella Doritos Una bella Doritos, perfetto Accessori Mirino ci sta, comunque la balestra è davvero forte Anello di fuoco, anello di fuoco Non lo so con la balestra ragazzi Vabbè, lo tengo Lo tengo, lo tengo, lo tengo Hai la speedcola al max? Mi sa di sì Ho un po' smesso di maxarmi tutto quanto Vi dirò la verità Perché alla fine non c'è tantissimo a cui giocare Più o meno sono le stesse modalità Adesso è uscita la mid-season Hanno aggiunto mi sembra sanatorium Ma alla fine Outbreak è sempre la stessa Speriamo un qualche easter egg nuovo Se no YouTube lo convertirò in un canale di Hello Kitty Di Hello Kitty No, in verità sapete Con l'arrivo del PC Un po' di custom map Magari anche con i sub Ciao Valerio Perché ha sto personaggio? Perché ha sto personaggio? Non lo so La balestra è la prima volta che la utilizzo su zombie Il nostro obiettivo è fare l'easter egg Vediamo se riusciamo a farlo senza problemi Oppure altro Ma secondo me dovresti provare anche a fare qualche challenge su Die Machine Il challenge li faccio del solito a livello di easter egg E come easter egg Ti dico la verità Trovo molto più divertente questo rispetto a quello di Die Machine Prima invece il contrario Questo mi fa schifo Sì ci sta Ci sta Sono pareri Più che altro questo è anche più breve È anche più breve E riesco a gestire meglio live e gameplay Die Machine è un po' più lungo Un po' più macchinoso Poi con i potenziamenti della Wunder Dopo un po' Secondo me pesa Allora la mia balestra Adesso non fa già più Non uccide già più Non uccide già più Ogni tanto ci sono questi micro lag dovuti Se miro la testa uccide Se miro il corpo No Ok 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 Però potenziata Comunque dicono è potenziata Con la speedcola Comincia a diventare OP Quindi ci voglio credere Bello bello Ho messo il tempo Comunque mi fa piacere Che adesso anche le live di zombie Non le segue praticamente più nessuno Stiamo ufficialmente morendo come canale Twitch E siamo nati da poco Ma siamo già sulla Sulla tomba Sul Rigor Martis E tra l'altro Piccola informazione Non so se vi può interessare Ringor Martis I muscoli Mi sembra che Ciao 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 I muscoli Mi sembra che si Si tendono O comunque si rigidiscono E i maschi C'è la probabilità Che muoiano Con un'erezione Quanto togliamo Questo 250 Fisso Ok 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 Ora possiamo prendere Le nostre boccette Prendiamo le nostre boccette Secondo me Io ve lo dico Potenziata al 3 Questa qui Fa parecchio danno Pri è troppo buono oggi No Era un finto Per buonismo La balestra funziona Come scimene Vecchi cod No perché non è esplosiva Non è esplosiva E io devo prendere qua Dovrebbero mettere Anche il coltello balistico Non vorrei sbagliarmi Usiamo la nostra tesserina Allora abbiamo tutte le tesserine Tutti i composti O le tesserine E Vabbè Non so neanche cazzo Ve lo dico a fare Allora lo sapete voi Come si fa sta cosa Andiamo a costruire Il sereo della verità Due amici al bar Uno dice all'altro Ma se io vado a letto Con tua moglie Siamo parenti L'altro dice No siamo pari Daryl e Walking Dead Uno dei personaggi preferiti Adesso non lo seguo più Perché Boh Ma che stagioni sono arrivati Mi sono fermato alla settima Cazzo Ne stavano facendo troppe Ok È qui Sei tu È lui Quindi posizioniamo Togliamo un pochetto Ok Basta 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 Ok Vorrei prenderlo Ok Allora Porca troia Tento Ciao Gabriam 12 4 11 12 4 11 Io ho un No Non va Ma ho un dubbio Che non funzioni Con la balestra Potrebbe essere Secondo me Non funziona Con la balestra Le magnum 750 Provo giusto a prenderlo E vediamo Che balestra è Se non lancia Dardi esplosivi Una balestra giusta No è vero In verità ci sono No ci sono sia balestre Che lanciano dardi Sia balestre che non lanciano So che magari avete Filz da Plecops 1 Sulla balestra Però 12 4 11 Dai 12 4 11 Bravo 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 La balestra Non funziona Prendete appunti Una cosa Quando avrò PC ragazzi Che mi piacerebbe fare È Cercare tutti I peggior giochi E cercare di portarli C'è proprio Quelli brutti Brutti Che sono Praticamente Incompleti Allora Allora La palla ce l'abbiamo Proviamo a fare la sopravvivenza Che mi dite Ragazzi Ma come cazzo Li ammazzo così Ok L'ho ammazzato Comunque No Scherza Oh Questo mi shotta Questo mi shotta Sto figlio di puttana Un tomo Che fa sempre comodo Un tomo Fa sempre comodo Io farei così Ok Possiamo spammarla No Così è stupenda Così è stupenda Così è stupenda Guardate Guardate La bellezza La bellezza I cani tra l'altro Sono mezzi buggati Ah qua c'è La munizione Cioè tu stai dentro E spammati È finito Purtroppo Armi Non possiamo potenziarle Ancora Io Io Oserei E mi voglio prendere Una bella speedcola Voglio vedere quanto Ricarica più in fretta Madonna Ma è velocissima Ma è la cosa più veloce Che abbiamo Questa è una speedcola Ma è fantastica Balestra Nuova arma preferita Ve la consiglio Provatela Allora Voglio Voglio provare una cosa Io adesso Me ne sto su quella scala E sparo dritto Ok forse se non miro la testa Non è facilissimo Porca puttana Da dove arrivano? No Allora Non fatelo Non fatelo Non fatelo Non fatelo Non ho neanche le armi necessarie Per Per Autorianimarmi Non fatelo Cosa mi ha tolto? Mi ha tolto la speedcola Allora scusate Allora comunque Questo è anche una sorta Di mythbusting Io lo faccio per voi Magari vi viene in mente Di mettervi lì È una pessima idea È una pessima idea Va che bella Va che bella Liscia Limetiche su limetiche Perfetto Perfetto Abbiamo la Wunder La Wunder Non penso di utilizzarla No 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 Ok 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 Ragazzi Meno male che c'era il quick Quanti punti ho? 340 Non posso finire la partita qui Non posso finire la partita qui Ringrazio Dio che c'avevo il quick revive Fatemi fare sta cosa Sono un po' fottuto Sono un po' fottuto Porca puttana Porca puttana Vorrei evitare di utilizzare L'anello di fuoco Adesso Perché mi servirà Poterla boss Fai Molto veloce Cioè dai Un'arma così veloce Forse non c'è Ovviamente te Fate una proporzione Tra velocità E danno E secondo me Questa è una delle Boh l'unica forse C'era la Reagan Oh shit C'era la Reagan Su Die Machine Che purtroppo l'hanno tolta Tolta Secondo me Guardatela come una sorta di nuova Reagan Non lo so Forse così a usare troppo Però nel senso Molto buona E questo mi preoccupa Perché vorrà dire Che andranno Un attimo A facciarla La nerferanno Sarà Sarà Ardua Sarà una boss Fight Ardua Oh Si inizia Allora Vediamo Effettivamente Come si comporta Ragazzi Togliamo 24.000 No ragazzi Ragazzi È OP Ragazzi Guardate che cos'è Ma cos'è Sta balestra Cos'è Questa balestra Non ci ho fatto caso All'inizio Non ci ho fatto caso All'inizio Quanta è durata 5 secondi Nuovo record Praticamente Della durata Di una boss fight Cioè Immaginatevi Anche solo due giocatori Con una balestra Non dura niente Noi ci siamo preparati Ci siamo preparati Ma Sciolto Sciolto Un cono Un cono Un cono Girato D'estate Pensa a fare La speedrun Ma infatti Secondo me Con la balestra Si guadagna Un po' Di tempo Alla boss fight Ma molto Anzi Ce l'abbiamo fatto Ragazzi L'abbiamo Praticamente Sciolto L'abbiamo sciolto Molto Semplice Molto Semplice Questo video Vedo Se riesco Se C'è Questa live La estraggo Vedo Se Se riesco A caricarla Su youtube Nel caso Tra domani E dopo domani